UNBOXING DEL NUOVO MICROFONO PORCO PORCHEA WE'RE GOING TO OPEN THIS Allora Tiriamolo fuori cos'è? Ok c'è questo, c'è il jack Ora noi dover tirarlo fuori Oh guardare che bello La marca è ovviamente ginese Se no io non potrei comprare Della ZOIT Sembra qualitosa Allora come potete vedere si piega C'è già il cosino antisputo di merda Porca p***a perché non lo metti a fuoco strotto Porco merda Porco merda Sembra abbastanza qualitoso 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 No dai ci sta, ci sta